Matteo Messina Denaro, morto a 62 anni nel reparto detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, boss stragista di Cosa Nostra, condannato per le stragi di Capaci e Via D'Amelio e per gli eccidi del 1993 a Roma, Firenze e Milano, oltre che per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Porta via con sé informazioni importanti che ha deciso dopo la sua cattura di non rivelare agli inquirenti. Con la sua morte a poco più di otto mesi dalla sua cattura dopo oltre 30 anni di latitanza, si chiude una pagina storica della criminalità organizzata del nostro paese. Gli investigatori raccontano che Messina Denaro avrebbe trascorso almeno fino al 2018 un periodo della sua latitanza tra le province di Cosenza e Crotone, prima della fuga definitiva a Campobello di Mazzara. Alcuni pentiti raccontano dell'acquisto di immobili in Calabria, intestati a dei prestanome dove Messina Denaro avrebbe trovato rifugio. Una decina di anni fa, nell'ambito di un'inchiesta sul business del fotovoltaico, un imprenditore ritenuto un fedelissimo del BOS si era visto sequestrare una serie di società che avevano fittato numerosi terreni di proprietà delle principali famiglie mafiose della Locride. Grazie alla protezione dell'Andrangheta si sarebbe rifugiato anche alla Mezzaterme e Cosenza, città in cui il BOS avrebbe avuto anche diversi affari, da quello dei traffici di droga alla realizzazione di un villaggio turistico ed impianti eolici. Nelle indagini si parla anche di segnalazioni secondo le quali il BOS Messina Denaro si sarebbe rifugiato anche nella piana di Gioia Tauro, tutti indizi sui quali le indagini delle procure potranno far luce per ricostruire la verità che il BOS con la sua morte ha portato con sé.